Cari amici, il passo evangelico che leggeremo quest'oggi riguarda uno dei miracoli fatti da Gesù precisamente quando liberò un indemoniato che abitava nel paese dei Geraseni. Quest'uomo posseduto dal demonio viveva in una condizione assolutamente depravata, bestiale, senza alcuna speranza. Gesù lo liberò e noi leggeremo quello che avvenne quando la notizia della liberazione di questo posseduto giunse agli abitanti di quelle contrade. Nel Vangelo secondo Marco capitolo 5 al versetto 15 leggiamo così. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente. Lui che aveva avuto la legione e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise ma gli disse va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui e tutti si meravigliavano. È una storia molto semplice. Nel liberare questi indemoniato Gesù aveva permesso ai demoni di entrare in un branco di porci. I porci si erano gettati giù a precipizio nel mare e questo aveva sconvolto le popolazioni della zona. Ma quando essi andarono da Gesù lo spettacolo che videro era singolare. Videro quest'uomo che era stato pieno di demoni seduto vestito e sano di mente placido tranquillo ai piedi di Gesù. Questo episodio biblico ci incoraggia a credere una cosa che tante volte ci riesce difficile da sperare e perciò impossibile da realizzare. Che il Signore possa trasformare le persone e soprattutto che il Signore possa trasformare le persone con un miracolo immediato. La vita di quest'uomo cambia e cambia in maniera radicale in poco tempo. Ci verrebbe da dire come è possibile realizzare così tanto in così poco tempo. Era posseduto dal demonio. Gli evangelici dicono che egli da molto tempo non indossava più vestiti e non abitava più casa. Egli viveva fra i sepolcri. Era stato legato con catene ma non avevano potuto fermarlo. E' veramente ridotto a una condizione bestiale. Arriva Gesù e con la sua semplice e autorevole parola gli cambia la vita. E noi vediamo un uomo totalmente trasformato in pochissimo tempo. Prima di tutto vediamo colui che da molto tempo non indossava più vestiti seduto, vestito. Colui che nessuno riusciva a trattenere nemmeno con le catene, tranquillo, seduto vicino a Gesù come un discepolo mansueto ai suoi piedi. Quante volte avendo a che fare con un carattere ribelle nella nostra vita o con qualcuno dei nostri cari abbiamo desiderato di cambiare o di vederli cambiati e abbiamo cominciato a pensare ai metodi, alle varie cose da mettere in atto. Il peccato nell'animo dell'uomo lo rende indomabile, incapace di controllare se stesso e c'è allo stesso tempo in questa storia una meravigliosa promessa. La parola di Cristo può cambiare le persone. La parola di Cristo può rendere una persona incontrollabile, una persona placida, tranquilla, una persona il cui aspetto e quando parliamo di aspetto non parliamo soltanto dell'esteriore ma parliamo dell'interiore, di quello che è nel cuore. Quest'uomo era posseduto all'interno dal demonio, all'esterno, era depravato, non vera gioia in lui, non vera pulizia nella sua vita. Il Signore Gesù lo cambiò e lo cambiò in poco tempo. Egli era vestito, era una persona il cui aspetto diceva che Cristo aveva fatto un'opera nella sua vita, ma non solo, era sano di mente, una nuova mente, un nuovo modo di ragionare. Egli prima gridava, urlava per i sepolchi, terrorizzava le persone, ora è sano di mente. Quanti attacchi la nostra mente deve subire, quanti dolori nella nostra mente, paure, angosce, tutte cose che rendono la qualità della vita terribile, deprimente per noi e per gli altri. C'è questa mattina, in questo passo della scrittura, una speranza. Il Signore Gesù può cambiare la mente, egli può dare una nuova mente. Se quest'uomo che era veramente posseduto dai demoni fu trasformato in un istante, in un uomo sano di mente, perché non credi che il Signore possa liberarti dai pensieri che ti angosciano, dalla tristezza che ti fa sprofondare perfino nella depressione, perché non puoi pensare che i tuoi problemi spirituali possano essere risolti dalla fede in Cristo Gesù. Come cambiò la vita di quest'uomo? Egli si prostrò dinanzi al Signore e il Signore lo liberò. Se tu ti rendi conto che il tuo aspetto intristisce, impaurisce, angoscia gli altri, se tu ti rendi conto che la tua mente non ospita più bei pensieri, gioiosi pensieri, potresti trovare la ragione in mille cose che ti circondano, nella mancanza di lavoro, nell'incomprensione della famiglia, nell'ambiente che ti accoglie o non ti accoglie come tu senti di meritare, ma la realtà è un'altra. L'animo dell'uomo senza la presenza di Dio, senza la presenza dello Spirito Santo, senza la grazia di Dio in Cristo Gesù, non sarà mai completo. quest'uomo in così poco tempo realizzò tanto, un nuovo aspetto, una nuova mente, un nuovo modo di pensare, di sentire, ma non solo. Scopriamo che mentre i suoi connazionali mandano via Gesù, egli vuole seguire Gesù e Gesù gli dà un ordine. Non puoi seguirmi, gli dice, ma va a casa tua, quella casa che non abiti più da tanto tempo, va dai tuoi, quei tuoi cari che da tanto tempo non incontri, non frequenti più e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. E quest'uomo andò e cominciò a raccontare quello che Gesù aveva fatto per lui e la gente stupiva, si meravigliava. Sì, perché in così poco tempo la vita di quest'uomo, che era depravata da un punto di vista morale, che era rovinata da un punto di vista psicologico e spirituale, che non aveva alcun senso, alcuno scopo, diventa una vita con uno scopo glorioso, parlare di Gesù, raccontare le cose grandi di Cristo. E tutto questo, dicevamo, avviene nel momento in cui Gesù incrocia la sua strada. Lo vediamo ai piedi del Signore e Gesù lo trasforma, lo libera. Pensi forse che il Signore abbia perso questa capacità di liberare le persone? Cosa c'è che angoscia la tua vita? Il tuo volto è così corrucciato che nemmeno chi ti ama riesce a guardarti? invoca il nome del Signore. Egli ti metterà pace nel cuore, ti libererà dai sensi di colpa, dal peccato e darà uno scopo nuovo alla tua vita. Non solo tu non sarai più con un viso lungo, triste, accigliato, con una mente oppressa, ma potrai raccontare che Gesù ti ha liberato, ti ha salvato, ti ha perdonato dai peccati. E tutto questo, semplicemente, inginocchiandoti ai Suoi piedi, invocando il Suo aiuto, credi e sarai salvato. Il Signore ti benedica. iscriviti al nostro canale.